Nola, Nando e Trotters. Esattissimo. Allora la tua generazione? Io sono nato dopo col complesso e dinamici prima e poi Flowers. Ma tu suonavi la chitarra? Io suono chitarra, basso, mandolino, adesso, mandolino, faccio posteggia classica napoletana. Ah, quindi stai ancora in attività? Ancora in attività. Ancora in attività, bravo. E che dove vai? Dove mi chiamano? Specialmente per i fini di settimana, no? Eh, di solito, sabato, domenica, in genere. Poi... I tuoi ricordi? I tuoi ricordi? Eh, Gennaro? Eh, Gennaro Vecione, Gennaro Vecione, grande amico mio, oltretutto, anche non di suono. Cantava molto bene e me lo ricordo sempre con... Con affetto, eh? Con affetto e gioia. E tuo fratello Nando? Mio fratello Nando ormai c'ha un anno più di me. Non vede bene? Non vede bene. Eh, lo so, lo so. Non vede bene e ha avuto parecchi interventi e lasciamo vedere. Comunque, tira avanti. Eh, raccontaci un poco della nostalgia dei tempi che furono. Eh, io da giovane... E eravate i protagonisti dei Mac P, eh? Sì, esatto, bravo. Prima cosa. Prima cosa. Poi di estate si andava, siamo stati, almeno io, con i Trotters, i Trotters, poi l'ultimo complesso, i Trotters, sono stato a Palinuro e a Sabri. Al Club Mediterraneo? Vicino. Al Club Mediterraneo? Al Club Mediterraneo. E poi sono stato a Sabri, quasi tutte l'estate. E già abbiamo fatto belle cose. Noi invece mi sono dato alla, diciamo, alla posteggia classica, chitarra, mandolino e voce. Ah, ma con chi? Eh, con un alunno mio al quale ho insegnato chitarra, un bel duo. Adesso si chiama Agostino e Luigi. Agostino e Luigi. Eh, bravo. Quindi... C'è... Se vuoi sapere l'età, 82 anni. 82 anni. Ben portati, eh. Eh, ti ringrazio. Sono entrato nel mese... Che? E poi incomincio un altro anno nuovo della mia nascita, diciamo, e quindi vado negli 83. Bravo! Ti ringrazio per questa tua... Bravo! No, 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 con gioia! Eh, ti ringrazio. No, no, non è la fe. Eh...